Buonasera, benvenuti a otto e mezzo, buonasera, benvenuto Carlo De Benedetti, imprenditore e editore del Quotidiano Domani, buonasera Alessandro Sallusti, direttore di Libero, buonasera Lina Palmerini, notista del Sole 24 Ore e buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa. Allora Draghi oggi riunisce il governo, ringrazia Mattarella per aver accettato il secondo mandato al Quirinale, ma non è cambiato nulla o è cambiato tutto? Subito dopo la pubblicità. Carlo De Benedetti, allora lo scorso 3 novembre, qui da noi a otto e mezzo, lei disse che Draghi doveva restare a Palazzo Chigi e che Mattarella non si sarebbe sottratto al BIS. Ha avuto un buon intuito o ha avuto buone fonti? Nessuna fonte ovviamente, sono contento perché questo è nell'interesse del Paese, credo che mi unisco a quelli che ringraziano il Presidente Mattarella per aver accettato questo sforzo e questo ulteriore impegno e penso che chi ha guadagnato da tutto ciò è il Paese. Ingegnere De Benedetti, ma Draghi che era chiaramente in corsa per il Colle, è il grande sconfitto o comunque è uscito sconfitto? No, Draghi non ha capito una cosa che a mio parere era evidente quando appunto sono venuto a lei a novembre e cioè che questo Parlamento non l'avrebbe mai votato perché la paura di andare a casa nel caso di un cambiamento di governo era troppo elevata per consentire al Parlamento di votarlo. E poi forse anche per un secondo motivo, che i primi della classe non sono mai così amati da quelli che stanno più bassi nella graduatoria. E quindi Draghi in generale fa troppo il primo della classe, lei pensa? No, no, lo è. Non è che lo fa. No, è un primo della classe assoluto, ma questa sua qualità, che è una qualità notevolissima, mal si confronta con la mediocrità della classe politica. Massimo Giannini, la mediocrità della classe politica, dice l'ingegnere De Benedetti, tu hai dato un giudizio tranchant anche tu sulla classe politica e siccome praticamente tutti i partiti in questa partita, quelli in Alizia, hanno ribadito la centralità della figura di Draghi, o al Colle o a Palazzo Chigi, insomma doveva... ma adesso nella maggioranza di governo di Draghi non ci saranno più ostilità, visto che alla fine tutti un po' lo volevano da una parte o dall'altra, o sarà il contrario? Perché oggi il Consiglio dei Ministri, che è stato piuttosto veloce, insomma la cosa più rilevante che hanno deciso, è stata quella di estendere fino al 10 ottobre l'obbligo delle mascherine febbraio, l'obbligo delle mascherine all'aperto. Ma quindi vedi una navigazione tranquilla da d'ora in avanti per il governo Draghi? Guarda, in Italia di tranquillo non c'è mai niente, dal punto di vista politico ormai sono quasi 30 anni che l'eterna transizione italiana ci regala continui trambusti, sommovimenti, terremoti e bradicismi, quindi no. No, perché tutto quello che ha detto l'ingegner De Benedetti è verissimo e a mio parere la politica è arrivata alla scelta migliore nelle condizioni peggiori. Io ho parlato di una politica in bancarotta che porta i libri in tribunale e chiede al Presidente uscente di fargli da commissario liquidatore, mi sembra un po' questo lo schema. È uno schema sul quale non bisogna calcare troppo i toni adesso, perché proprio per le ragioni che tu stai dicendo, e cioè la necessità che questo Paese possa di qui alla fine di quest'anno e poi anche nel primo semestre del successivo attraversare il mare con una navigazione relativamente tranquilla, occorre che questa frattura, che è ormai una frattura evidente tra, si sarebbe detto un tempo, il Palazzo e il Paese Reale, ma dentro il Palazzo, tra il Parlamento e il Presidente del Consiglio, si ricomponga perché effettivamente lì uno strappo c'è stato. Quindi ora si tratterà di capire, e io lo auspico, in che misura Draghi cercherà di forzare la mano? Perché c'è tanto da fare. L'altra indicazione importante che è uscita oggi, è stata la roadmap per il PNRR e ripresa sono priorità. 64 miliardi, tre rate da incassare da qui alla prima metà del 2023, e Draghi ci ha tenuto a fare la roadmap dicendo i 102 obiettivi che dobbiamo raggiungere, le 66 riforme da fare. E ha segnato anche i compiti ai vari ministri. Bisogna partire forte, forte su questo piano, cercando di portarsi dietro i partiti. È complicato, però io credo che la bancarotta dei partiti sul Quirinale può agevolare Draghi. Serve tanto senso di responsabilità. Questo speriamo che ce l'abbiamo. Ce l'avranno Lina Palmerini e Draghi, esce più forte o più debole questa settimana Quirinalizia? Io vorrei seguire un po' il ragionamento di Massimo Giannini, perché è vero che c'è questa frattura tra i partiti, o il Palazzo e la società. Beh, questa però diventa un'occasione per i partiti di mettersi invece in sintonia con il Paese, perché è vero quello che diceva l'ingegner De Benedetti, c'è nel Paese invece una domanda di stabilità, quindi hanno accolto bene il mantenimento dello status quo, perché c'è una domanda di governo e di stabilità. Il punto è vedere se questi partiti deboli, perché indubbiamente escono indeboliti da questa prova, vogliono diventare loro stessi garanti del governo e quindi farsi interpreti di questa domanda di stabilità, oppure se vogliono trasformare i problemi che ci sono e ci saranno in comizi elettorali permanenti. Oggi c'è la notizia positiva della crescita l'anno scorso al 6,5%, tuttavia per quest'anno invece ci sono delle grandi incognite, il costo dell'energia, l'inflazione, l'attuazione del piano europeo, il comportamento delle banche centrali. Ecco, tutto questo diventerà appunto un comizio elettorale permanente oppure un'attitudine di governo. E sono d'accordo anche sul fatto che se il governo sarà più forte dipenderà anche da Draghi, perché anche per Draghi comincia una pagina nuova. Cioè le aspettative nei suoi confronti si sono secondo me persino alzate, quindi c'è una grande aspettativa interna e internazionale sull'asse rinnovato Mattarella-Draghi. Alessandro Sallusti, sei d'accordo? Su alcuni punti vedevo che eri un po' perplesso di queste analisi. No, ma non perché non ho sentito cose di assoluto buonsenso da chi mi ha preceduto, le cose stanno esattamente così. Però entriamo in un anno di campagna elettorale e i partiti hanno non solo la necessità, ma anche il legittimo diritto, direi dovere, di rappresentare soprattutto in campagna elettorale gli interessi e le visioni dei propri elettori. Cioè, attenzione, siamo ancora in una democrazia, no? Allora, io immagino che se Draghi accelera, come dire, qualcuno si farà male, perché faccio due esempi per farmi intendere. Se Draghi domani presenta la riforma del catastro, che è il preludio all'aumento delle tasse sulla casa, io non so se la Lega e Forza Italia potranno secondarlo. Se presenta una riforma vera, non finta, del reddito di cittadinanza, cosa altrettanto necessaria, io non so se i 5 Stelle potranno secondarlo. Detto questo, si è tutti prigionieri del fatto che il Parlamento ha deciso che non si va a votare prima dell'anno 21. Quindi si è in un cul de sac, dove però io non vedo tutte le rose e fiori all'orizzonte, proprio perché siamo in campagna elettorale e, attenzione, la campagna elettorale è qualcosa previsto dalla Costituzione e dalla democrazia. Non è adesso che chi dissente da Draghi è per forza un fetentone, insomma, è anche uno che fa il suo lavoro. Ingegner De Benedetti, allora, diciamo che ci sono, tante esigenze in campo adesso. Dice Sallusti, la democrazia prevede il dissenso e quindi i partiti politici in un anno elettorale, più che senso di responsabilità, devono dimostrare lealtà al loro elettorato. Ma questo che cosa ci porterà, secondo lei, nei prossimi mesi? Più stabilità, meno stabilità? Che cosa prevede lei? Visto anche che il quadro economico oggi, il dato del 6,5% di crescita nel 2021, è molto positivo, ma ci sono appunto tante incognite che ci aspettano, che sono già con noi, dall'inflazione, alla messa a terra del PNRR, alla pandemia che ancora non è finita. Guardi, scusami, prendo spunto dall'ultima cosa che lei ha detto, e cioè l'inflazione. Io, al di fuori dell'inflazione generata dai costi dell'energia, che quindi hanno delle ripercussioni su tanti altri prodotti, non vedo l'inflazione come un problema, mi pare che nello stesso, non lo vedo come una cosa che caratterizzerà il 22. Penso che vedremo, io penso che la Lagarde non aumenterà i tassi questa settimana. e per quanto riguarda gli Stati Uniti, sui tassi vedremo, perché c'è chi prevede 5 aumenti dello 0,25% durante il 22% e chi ne prevede 2%. Quindi direi, stiamo alle cose concrete che sappiamo. La cosa che sappiamo è che i partiti hanno dichiarato il loro fallimento, però devono prepararsi contemporaneamente a una campagna elettorale che ha una data ben precisa e non spostabile. Io credo che ci sarà un terremoto nel panorama politico e questo terremoto io non sono in grado di dire come uscirà. Io penso che sarebbe molto auspicabile. Mi scusi, ingegnere. Mi dica. Quando lei dice che prevede un terremoto, chi verrà travolto da questo terremoto e come si concretizzerà? Guardi, certamente una persona che io credo che abbia vissuto la sua materlò è Salvini che ne pagherà le conseguenze. Conte durante questa settimana è non pervenuto e quindi diciamo che se prendiamo già questi due partiti avranno dei cambiamenti molto notevoli. Avremo, secondo me, la stabilità della Meloni all'opposizione. Tra l'altro la Meloni esce bene dal suo punto di vista da questa settimana qui in Alizia il fatto stesso che quando lei ha imposto di votare Nordio abbia avuto una trentina di voti in più di quelli che sono i suoi parlamentari è una dimostrazione che qualcosa della Lega è già in corso, uno smuottamento nei confronti della destra. Auguriamo a Berlusconi di riprendersi dopo questa breve permanenza in ospedale però certamente gli anni e lo dico perché sono di un anno più vecchio di lui contano quindi voglio dire non potrà partecipare attivamente alla campagna elettorale del 23. Renzi è alla ricerca di organizzare un'OPA su Forza Italia o comunque cercare allora in alternativa una formazione di centro con i vari spezzoni ex-democristiani totti e così via lupi e così via cioè io vedo un bel movimento ecco c'è stato un terremoto la realtà ecco ma posso chiederle però il terremoto c'è stato posso chiederle quindi concretamente lei pensa lei pensa che Salvini dovrà fare un passo indietro o insomma non sarà più il leader neanche della Lega oltre che del centrodestra e Conte sarà battuto dal suo rivale interno Di Maio e la navigazione del governo Draghi sarà molto turbolenta a questo punto? Dipende molto da Draghi cioè io non mi permetto di dare dei suggerimenti a Draghi però posso fare degli auspici e cioè deve andare avanti spedito e deciso sulle priorità del paese avendo un atteggiamento fermissimo nei confronti dei partiti e Salvini sopravviverà e Conte? Guardi Conte anche questa settimana non è pervenuto nell'ambito dei 5 Stelle Di Maio è certamente uno che è cresciuto molto dal punto di vista politico se due anni fa chiedeva l'impeachment di Mattarella oggi è un'altra persona è certamente cresciuto politicamente notevolmente d'altronde se abbiamo Mattarella lo dobbiamo anche molto a Di Maio perché venerdì nella votazione di venerdì pomeriggio Di Maio ha indirizzato chiaramente a molti dei suoi e forse non solo nella votazione nel numero di voti per Mattarella che è quello che poi ha costretto la mattina dopo i vari leader di partito a prenderne atto e a chiudere la partita Allora ricomincio da te Massimo Giannini e voglio sapere da voi i miei colleghi giornalisti promossi e bocciati allora Salvini sopravviverà a questo terremoto generale e a quello che comunque è anche un po' un terremoto nella Lega oggi il leader della Lega Salvini è andato a trovare Berlusconi nel pomeriggio e anche perché come sapete il leader di Forza Italia è uscito dalla clinica dopo una settimana e chi sono i promossi e bocciati sopravviverà Salvini sopravviverà Conte come andrà avanti e la Meloni ne esce meglio di tutti gli altri anche perché pure la Meloni oggi ha ribadito quello che ha già detto nei giorni scorsi cioè che lei intanto non si piega e che si allea con il paese ha detto anche oggi anche stasera e poi che comunque i suoi alleati Forza Italia e Lega quando hanno dovuto scegliere tra lei e il PD hanno scelto il PD guarda promossi e bocciati e che quello che ha fatto Salvini è una follia anche questo ha detto la Meloni promossi e bocciati i bocciati lo vediamo chi sono sono le due forze politiche che nel 2018 hanno trionfato le due forze sovraniste e populiste che dovevano rivoltare l'Italia come un calzino e aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno allora il Movimento 5 Stelle dalle politiche del 2018 a oggi ha perso 6 milioni di voti la Lega dalle europee ad oggi ne ha persi quasi 5 quasi 5 milioni di voti allora noi abbiamo un problema noi loro e anche noi come riflesso come cittadini un problema di leadership indubbiamente ma c'è un problema di bacini elettorali cioè qui ci sono 11 milioni di voti che sono finiti non si sa bene dove e che hanno tuttavia un segno abbastanza preciso c'era una forte componente di voto di rottura in quegli 11 milioni c'era però anche un voto forte solido a destra di destra quindi questo elettorato non si estingue con Salvini Salvini può anche incappare in una resa dei conti severa all'interno del suo partito su questo non c'è dubbio gli chiederanno conto io lo credo necessario domani c'è un consiglio federale burrascoso probabilmente ha fatto il papete d'inverno l'ha perso su tutta la linea oggi ha mandato una lettera al giornale lanciando una federazione sullo stile del partito repubblicano di Trump che a me è sembrato il predellino di Berlusconi a suo tempo quando Fini gli rispose siamo alle comiche finali la Meloni gli ha risposto quasi la stessa cosa oggi è un modo per buttare la palla in calcio d'angolo è chiaro che quella è una leadership in crisi ma chi può contendere la Lega a Salvini c'è un'alternativa per ora non si è ancora vista la stessa cosa vale per i 5 Stelle è chiaro che anche lì ci sarà è in atto la stiamo vedendo Di Maio potrebbe essere il leader del Movimento 5 Stelle assolutamente sì ieri è partita uno shitstorm sui social tutta contro Di Maio costruita dall'ala contiana è evidente quindi il regolamento di conti è già in atto come ne usciranno però è tutto da vedere io penso che si scinderà il Movimento 5 Stelle ecco e quindi però il tema non è delle leadership il tema è chi intercede chi si riprenderà quegli 11 milioni di voti che sono stati dispersi dove andranno di qui al 23 e questa è la grande sfida che abbiamo di fronte ecco chiaramente Lina Palmerini e anche Sallusti Giorgia Meloni prego ingegnere no volevo a chiosa di quello che diceva Giannini che condivido soprattutto sono finiti in astensione noi dobbiamo dobbiamo vedere che le ultime elezioni hanno avuto un calo di partecipazione colossale allora qui ci vuole qualcuno che ridia alla gente il senso di un orizzonte il senso che c'è una politica e non un senso di vuoto come c'è oggi nei confronti della politica perché stando le cose così la prossima volta andiamo sotto il 50% e le faccio una previsione visto che non la posso permettere perché alla peggio vado uno a uno ecco speriamo di no speriamo di no però certo Lina Palmerini è vero che a ogni elezione la tendenza è che gli elettori scappino invece che andare alle urne allora secondo te c'è qualcuno che può raccogliere questo scontento riempire questo vuoto e sicuramente Giorgia Meloni si sta preparando alla battaglia perché quando in serata dice a domanda ma andrete insieme voi del centro-destra alle prossime elezioni lei risponde vedremo diciamo che intanto ha deciso di giocare una partita autonoma certo lei è nella posizione più comoda perché comunque resta all'opposizione può ha un margine di azione politica che Salvini non ha perché Salvini poi ha ribadito io sono d'accordo che potrà esserci un terremoto però vorrei capire se questo terremoto butterà giù il governo oppure lo stabilizzerà secondo te? io ho sentito Salvini dire in tutte le salse che Draghi doveva rimanere al governo che la fiducia della Lega era Draghi a Palazzo Chigi quindi insomma se tra un mese due mesi diventa lui quello che destabilizza Draghi io penso che allora sì che si aprirà una resa dei conti nella Lega perché ma dice Sallusti che sono in campagna elettorale quindi se Draghi vuole fare davvero la riforma del catasto siccome l'elettorato leghista non lo vuole ma dipende da come si fa la campagna elettorale perché c'è anche il tema come si diceva di dare rappresentanza cioè qualcuno vuole dare rappresentanza a questo mondo produttivo che comunque ha mostrato una sua reattività con un tasso di crescita che sebbene non recupera quello che abbiamo perso comunque c'è stata una reattività quella rappresentanza chi la offre la rappresentanza politica a questo mondo Sallusti immagino che la Lega e la Lega del Nord continui a essere un punto di riferimento per quel mondo quindi chi la darà questa rappresentanza Alessandro e tu volevi anche intervenire sugli altri punti no io penso che oggi scusate dobbiamo prendere atto di una cosa che io stesso come dire ho negato per qualche anno cioè che abbiamo parlo di chi la pensa come me inseguito il sogno che il centrodestra potesse continuare il centrodestra così come l'abbiamo conosciuto il centrodestra esisterà sempre nella sua vita nella vita ovviamente ma che quella formula politica potesse sopravvivere alla fine della leadership del suo fondatore che l'aveva Alessandro Sallusti non c'è più quella coalizione di centrodestra no no se lo si è visto che non c'è più lo si è visto e si continua a vederlo l'illusione era che questa cosa potesse sopravvivere alla perdita di leadership alla fine della leadership del suo fondatore che l'aveva plasmata a sua immagine e somiglianza tanto è vero che si chiamava centrodestra non destracentro cioè un agglomerato moderato di centro con al suo lato due partiti di destra il centrodestra di fatto prendiamone atto è morto il 5 marzo del 2018 il giorno delle ultime elezioni quando Berlusconi ha perso la leadership e quindi il controllo di quella cosa lì per 4 anni si è tentato di farlo stare in piedi in qualche modo ma oggi mi sembra del tutto evidente che questa cosa non è possibile attenzione dico che non è possibile nelle formule con cui è stato in piedi finora c'è un unico problema che credo che al di là di quello che viene detto in queste ore tutti sono un po' cauti perché dal punto di vista elettorale o si va insieme oppure non si tocca palla con questo sistema elettorale ovviamente se cambia il sistema elettorale quindi però insomma ecco e lì qui tocchi un punto e la reinterpello ingegnere e aggiungo una domanda la legge elettorale cambierà diventerà una faranno una legge elettorale proporzionale secondo lei anche perché il grande centro di cui in queste ore tanto si parla può esistere solo con una legge elettorale proporzionale o no? E le piace l'idea del grande centro? No non mi piace il grande centro non è non mi piace io penso che dovremmo cercare di orientare le nostre opzioni elettorali in coerenza con quanto avviene nei due grandi paesi europei la Francia e la Germania allora questi due paesi hanno due sistemi elettorali completamente diversi uno la Germania proporzionale con sbaramento al 5% la Francia doppio turno e ballottaggio io ovviamente non ho nulla da posso auspicare ma non ho nulla da dire da legiferare ma io naturalmente preferirei il sistema francese perché è molto più definitivo l'abbiamo sperimentato d'altronde con i sindaci noi avevamo i sindaci che cascavano ogni due per tre adesso abbiamo la stabilità dei sindaci per tutta la durata del loro mandato ed è molto più collegato al popolo alla popolazione ai votanti lo scegliere con un ballottaggio anziché scegliere su una lista anonima perché di fatto loro non sanno chi verrà eletto verrà eletto in funzione della graduatoria che le segreterie dei partiti formeranno quindi c'è un primo problema la legge elettorale per me è un must bisogna andare a votare nel 23 con una nuova legge elettorale poi decidono i legislatori se sarà un sistema proporzionale con sbaramento alla tedesca o un sistema di ballottaggio alla francese siccome si fa un po' di confusione tra riforma elettorale e riforma costituzionale ho sentito in questi giorni qualche svarione su quel tema ecco non parliamo di riforme costituzionali cioè la Meloni che vuole il presidenzialismo se lo sognerà perché questo paese ha dimostrato anche nel caso di Mattarella che per fortuna c'è il Parlamento se non c'era che ha mandato Mattarella di nuovo al Quirinale e chi ha voluto vedere Mattarella quando ha detto che accettava ha voluto accettare di fronte ai capigruppo del Parlamento non di fronte ai segretari dei partiti e questo mi pare una cosa considerevole secondo io credo che avranno maggiore importanza i governatori sempre perché sono più vicini al loro popolo interpretano conoscendolo le esigenze Zaia dei Veneti e così via e quindi noi dobbiamo tener conto che da un lato c'è una necessità direi quasi federale cioè il potenziamento del potere dei governatori e dall'altra c'è una necessità che siano i cittadini a poter scegliere chi vogliono votare e non le segretarie dei partiti questo è una cosa che dobbiamo chiedere ai politici di qualsiasi colore di introdurre prima delle elezioni del 23 se no nel 23 siamo qui a farci più o meno i discorsi di oggi aggiungo un'ultima cosa e poi mi taccio vorrei che non si parlasse più di centrodestra perché come ha detto giustamente Sallusti il centrodestra è morto con Berlusconi con le elezioni del 18 quindi la Meloni è destra formiamola per quello che è non ci vuica male io non sono di destra e Salvini non vedo niente di male a essere di destra beh Salvini è un populista un populista è uno da comizio non è un politico ha dimostrato anche in questa occasione di non essere un politico ma non sa scegliere gli uomini quale cosa ha scelto per competere a Milano con Sala non c'è non sa Salvini è una nullità è un giudizio piuttosto tranchant e con questo giudizio io vi si tranchant è convinto tranchant è convinto è convinto allora io vi faccio vedere allora adesso il punto di Paolo Pagliaro perché gli italiani come hanno visto questa settimana qui rinalizia guardate tre mesi fa un sondaggio di Demopolis ci aveva detto che il 56% degli italiani era favorevole alla rielezione del presidente uscente l'auspicio è stato condiviso dal Parlamento e oggi la soluzione del secondo mandato per Sergio Mattarella è apprezzata dal 63% d'altra parte lui è da anni la figura politica e istituzionale più apprezzata dagli italiani come emerge dal trend Demopolis la fiducia cresce costantemente dal 45% del giorno dell'elezione nel gennaio di sette anni fa al 75% nella fase più dura del covid nel 2020 sino al 70% di oggi il gradimento del capo dello Stato si conferma politicamente molto trasversale si fida di Mattarella il 96% degli elettori del PD circa l'80% di chi vota 5 Stelle e Forza Italia ma anche il 58% dei simpatizzanti della Lega il dato si riduce al 37% tra gli elettori di Fratelli d'Italia che avrebbero voluto una figura diversa sul colle per tre italiani su quattro il voto per il Quirinale è stato caratterizzato dall'incapacità dei partiti di trovare un accordo molti segnalano anche la profonda distanza tra le forze politiche e il paese reale la debolezza dei leader le divisioni all'interno del centrodestra Demopolis ha chiesto ai cittadini di dire chi ha gestito meglio la partita del Quirinale il 33% cita Enrico Letta il 31% Giorgia Meloni ma il dato più significativo è rappresentato da quel nessuno citato dal 54% degli intervistati adesso secondo l'istituto diretto del Pietrovento prevale la voglia di stabilità per il 53% degli italiani è preferibile che nei prossimi mesi il governo Draghi vada avanti con l'attuale compagine ministeriale per quasi un quinto invece dovrebbe rafforzarsi con l'ingresso di nuovi esponenti politici di opinioni diverse il 28% convinto che sarebbe preferibile sciogliere le camere e tornare alle urne siamo in chiusura grazie ingegner De Benedetti grazie Alessandro Sallusti grazie a voi grazie Lina Palmerini grazie Massimo Giannini grazie spettatrici spettatori adesso vi lascio a Diego Bianchi al suo propaganda live quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.